Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa settantottesima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di software. Il team di Inkscape ha rilasciato la versione 1.0.1. Questa nuova versione, oltre al consulito lavoro di correzioni di bug e miglioramenti della stabilità, introduce anche una serie di nuove funzionalità che sarebbero dovute arrivare con la versione 1.0, ma che per motivi di stabilità non si è fatta in tempo a includere nella versione stabile 1.0. Fra le nuove funzionalità, una delle più interessanti è senza un po' di dubbio l'esportazione PDF con gestione del colore usando Scribus. Questo avviene grazie a una nuova estensione sperimentale che si interfaccia con Scribus versione 1.5 successive. Per tutte le altre novità in merito vi rimando a leggere le note di rilascio dove trovate maggiori approfondimenti. Dal fronte Ubuntu e derivate arriva una interessante notizia riguardante Ubuntu Kirin, uno dei flavor ufficiali di Ubuntu pensato per il mercato cinese. Il team che sviluppa la distribuzione ha da qualche rilesa a questa parte portato avanti un nuovo progetto, un nuovo ambiente desktop chiamato UQui. UQui è basato su RQT e offre un layout simile a Windows per così dire. Il team di sviluppo di UQui questa settimana ci ha mostrato un'anteprima di UQui 3.1, la nuova versione di UQui che molto probabilmente vedremo già a partire dalla versione 20.10 di Ubuntu Kirin. L'aspetto di questa nuova rilascio è molto particolare ed è un mix tra Windows 10, MacOS e Big Sur e alcuni elementi che richiamano Android, quindi con i toggle rapidi e cose così di questo genere. Come vedremo più avanti è un fil rouge che riga tutti quanti i desktop environment nati e pensati per il mercato asiatico. Infatti, restando in oriente, questa settimana c'è stato anche il rilascio di Deepin 20 e la nuova versione della famosa distribuzione cinese, molto discussa per via di alcuni problemi che ci sono stati in passato per quanto riguarda Spyware e quant'altro. Questa nuova versione di Deepin è basata su Demian 10.5 e porta con sé la nuova versione di Deepin Desktop Environment. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un ambiente desktop moderno che però tra ispirazione dai sistemi operativi proprietari. Se vi piace la nuova versione di Deepin Desktop Environment ma non volete utilizzare Deepin, vi consiglio di optare per Manjaro che offre Deepin all'interno dei propri repository e lo aggiorna di frequente. Quindi è la soluzione migliore per utilizzare Deepin senza Deepin. Parlando di Manjaro, qualche giorno fa c'è stato il rilascio di Manjaro 20.10, nome in codice Mica. Anche per questa nuova edizione di ambiente desktop principale resta XFSE con il consulito lavoro di perfezionamento dell'esperienza utente che troviamo sempre su Manjaro. Le restanti edizioni principali, quelle con Gnome e con KDE, offrono entrambe l'ultima versione stabile dei rispettivi desktop environment. Troviamo poi qualche miglioria con qualche cambiamento di programmi predefiniti. Ovviamente si tratta di una semi-rolling, quindi se avete già installato Manjaro non dovete stare a installare da capo. Se invece dovete fare una nuova installazione potete scaricare le ultime ISO aggiornate. Prima vi ho parlato di XFSE su Manjaro. Bene, per la gioia di tutti gli appassionati di questo desktop environment vi segnalo anche il rilascio della prima pre-relase di XFSE 4.16. Fra le novità di questa nuova relase troviamo l'eliminazione del vecchio codice basato sui GTK2, un nuovo set di icone, miglioramenti alle varie finestre di dialogo, varie schermate delle impostazioni, un nuovo plugin chiamato Status 3 che è una fusione tra Sys3 e Status su Notifer e alcuni miglioramenti a Tuner. Speriamo di vedere più presto la versione stabile di XFSE 4.16 perché promette davvero bene e promette davvero bene anche questa nuova attenzione da parte degli sviluppatori volta a propinare rilascio di XFSE con maggiore frequenza rispetto al passato, a 4.4 oggi. È arrivata dopo secoli. Vabbè, c'è stato lì comunque tutto il lavoro che hanno dovuto fare per la migrazione con la GTK3 e quindi c'è stato un reglentamento non indifferente, ma come vi dicevo il team di XFSE ha detto che le prossime rilise saranno più veloci e infatti lo sta dimostrando. Torniamo adesso a parlare del Windows Subsystem per Linux. Microsoft la scorsa settimana ha rilasciato un aggiornamento accumulativo per Windows 10 che ha di fatto azzoppato il Windows Subsystem per Linux 2 rendendolo non funzionante. Se anche voi avete lo stesso problema la soluzione momentanea è quella di rimuovere l'ultimo aggiornamento accumulativo di Windows 10 e su blog trovate le istruzioni dettagliate su come fare. Infine resta in stando in ambito bug. Come avete avuto modo di ascoltare, lo scorso 9 settembre ho registrato una puntata speciale del podcast per sfogarmi con voi in merito al famoso bug di Mutter che vi ho già parlato nelle scorse settimane che sta causando diversi problemi agli utenti di Ubuntu 20.04. Con alcune risoluzioni si verifica un bug che praticamente provoca dei problemi al dimensionamento dei caratteri di Ubuntu. Il bug è particolarmente fastidioso perché si verifica solo su Ubuntu, quindi non su altre distribuzioni che utilizzano Gnome. e causa praticamente i caratteri minuscoli, quindi si deve andare poi nelle impostazioni, cambiare il ridimensionamento frazionario, portare a 200, riportare a 100 e si sistema. Però bisogna fare ad ogni riavvio, è un casino. Altrimenti bisogna installare la vecchia versione di Mutter, bloccarla negli aggiornamenti e quant'altro. Quindi insomma c'è una soluzione, ovviamente ci sono dei workaround, però si aspetta una patch definitiva. Perché mi sono lamentato con voi? Perché il bug è stato segnalato lo scorso 21 agosto e oggi è il 14 di settembre e non c'è stata ancora nessuna correzione. Un tempo, un bug del genere sarebbe stato oggetto di patch in tempi molto rapidi perché c'era una community più attiva e c'era molta più attenzione per Ubuntu Desktop. Bene, qui mi aglaccio con un altro post che ho realizzato sempre questa settimana che parla di alcuni problemi emersi all'interno della comunità di Ubuntu. Da qualche settimana infatti diversi utenti della comunità di Ubuntu hanno iniziato a lamentarsi all'interno della piattaforma in merito allo stato di Ubuntu. Perché? si è notato uno stato di abbandono verso la distra a livello di comunità. Gli utenti si lamentano della mancanza di una leadership dovuto in parte anche al defilarsi di Mark Shortworth che si sta concentrando su altro e ha anche una mancanza di una chiara governance della community intera. su blog trovate il link alla discussione dove presenta anche un commento di Mark al riguardo. Mark ci ha tenuto a precisare che il suo impegno in questo momento è quello di garantire una sostenibilità finanziaria alla distribuzione. di fatto quello che noi abbiamo tutti quanti visto nel corso degli anni è un abbandono nei confronti di Ubuntu in quanto sistema operativo desktop perché Canonical e Mark Shortworth si sono voluti concentrare su 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 altri servizi remunerativi da utente Ubuntu di lunga data mi dispiace vedere la comunità di Ubuntu in questo stato e spero che si riesca a sistemare tutto quanto prima dando una nuova linfa distribuzione tirando maggiori anche utenti e dando maggior risalto a Ubuntu desktop quindi al sistema operativo desktop. bene per oggi è davvero tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao